Buongiorno, anzi buona serata e ben trovati nella nostra seconda edizione del telegiornale dell'Umbria, nell'edizione del nostro telegiornale per aggiornarvi su quanto sta accadendo in casa Perugia. Una giornata convulsa per quanto riguarda il club di Pian di Massiano, perché nel primo pomeriggio si era diffusa una voce secondo la quale il gruppo Ermini si sarebbe ritirato, avrebbe in qualche modo interrotto la trattativa. Negli ultimi minuti invece si vocifera che si stia invece trattando ad oltranza per giungere ad un accordo, dato che oggi si tiene tutt'ora in corso l'Assemblea dei Soci del Perugia a calcio. Dicevamo, una giornata che possiamo in qualche modo cercare di ricostruire, affermando ovviamente di usare il condizionale, cioè non confermando quanto vi stiamo dicendo, ma a secondo quelle che sono le nostre informazioni. Da una parte il presidente Covarelli, che sarebbe andato a Roma e avrebbe incontrato tramite un importante soggetto di un importante istituto di credito romano, il gruppo Ermini, per appunto giungere ad un accordo in previsione dell'Assemblea dei Soci che si sta tenendo proprio in questi minuti, in questa serata convulsa. L'accordo sembrava assaltato nel primo pomeriggio, dato che si parlava di cifre superiori rispetto a quelle ipotizzate in un primo momento, cifre debitorie, ma si parla anche che Covarelli avesse in qualche modo avuto la necessità di ricevere dallo stesso Ermini le garanzie fideiussorie per ratificare in maniera del tutto visibile, cioè a fronte appunto delle fideiussioni, la carica e la nomina del nuovo amministratore unico proprio in Nicola Ermini. Una giornata ovviamente che si è protrata con il rincorrersi delle voci, che in qualche modo stiamo ancora registrando. Altre ipotesi su cui stiamo lavorando, ma probabilmente nella giornata di domani ci sarà più chiarezza, quella in cui l'accordata, che in un primo momento si sarebbe ritirata, sarebbe pensando ad una soluzione nel caso in cui venisse dichiarato il falimento del Perugia. Dunque diventerebbe competitor del gruppo Bagattini, che ha annunciato in maniera ufficiale di voler acquisire il titolo sportivo del Perugia attraverso il fallimento in corsa. Queste sono le notizie che ci giungono proprio in questi minuti. Sembra che proprio in questi minuti si stia tenendo a Pian di Massiano l'assemblea dei soci della società ed è per questo che le notizie sono assolutamente frammentarie. Quello che possiamo dirvi è che non è stato possibile contattare l'addetto stampa di Ermini, che era stato sempre piuttosto disponibile al telefono con noi giornalisti, passandoci anche delle mezze informazioni, e che non siamo riusciti ancora a contattare nemmeno il gruppo di professionisti che stanno collaborando con Leonardo Covarelli. La cosa certa è che oggi sono arrivati diversi comunicati stampa, il primo è quello di Bagattini, avvocato Bagattini del gruppo Pieroni, che afferma che non c'è alcun altro interessamento del gruppo al di fuori del Perugia. Mentre l'avvocato di Campli, che è uno dei legali della accordata Pieroni, ha precisato che in merito alla squalifica di otto mesi, riportata su alcuni organi di stampa. Si tratta di una squalifica dettata da, in qualche modo, conflitto di interesse, cioè di Campli e anche procuratore sportivo, ruolo dal quale si sarebbe autosospeso. Dunque non ci sono altre situazioni pendenti che riguarderebbero questo avvocato, che non sarebbe nemmeno procuratore di alcuni giocatori del Perugia. Comunicati stampa, che sono arrivati invece nel primo pomeriggio da parte degli ingrifati e del centro coordinamento. Ebbene, gli ingrifati e il centro di coordinamento hanno deciso di una forma di sciopero clamorosa, cioè domenica disserteranno lo stadio in vista della partita contro il Foligno. Non esiste guardare una squadra che regala punti nel nostro stadio, assistere e dare fiducia ancora ad una società, ad una situazione generale che crea solo confusione. Lasciamo questo schifo, si legge nel comunicato a chi lo ha provocato, cioè al signor Covarelli e a De Megni, all'ingegnere e ai sostenitori del famoso progetto stadio. Non ricordiamo quanto questo stia portando male al Perugia. Gli ingrifati attaccano anche la stampa e tutti i soggetti di questa vicenda. Invitano gli altri tifosi a rimanere fuori dai cancelli. Noi la nostra passione non ci abbiamo rinunciato. Stiamo domenica fuori per una questione di dignità. La nostra, loro che non ce l'hanno mai avuta, invece che si meritano tutto questo, cioè che noi resteremo fuori dallo stadio. Ripeto, è stata una giornata convulsa e probabilmente la verità uscirà domani anche sugli organi di stampa, i quotidiani che lavoreranno fino a tardanotte per cercare di capire cosa sta succedendo in questi minuti. Ripetiamo, primo pomeriggio, voci secondo le quali la cordata Ermini si sarebbe ritirata, invece negli ultimi minuti sta trapelando la notizia secondo la quale invece le trattative sarebbero ancora in corso e naturalmente su questo usiamo, anzi su tutto questo usiamo il condizionale. Il condizionale è davvero d'obbligo. E proprio in chiusura di telegiornale possiamo aggiornarvi sulla vicenda Perugia Calcio perché siamo riusciti a contattare uno degli interlocutori in questione e cioè il dottor Nicola Ermini, il commercialista di Firenze che in qualche modo conferma le nostre indiscrezioni trapelate nell'ultima ora e cioè Ermini riferisce che i soggetti da lui rappresentati sono sempre interessati all'acquisizione del Perugia Calcio e dunque della società Perugia Calcio sempre che Covarelli però rispetti tutti gli impegni assegnando allo stesso Ermini la carica di amministratore unico evidentemente su questo aspetto che si sta giocando la partita una partita che sembrava chiusa, sembrava interrotta e che invece potrebbe riaprirsi se appunto Ermini e Covarelli riuscissero a trovare un'intesa su questo aspetto e cioè sulla nomina ad amministratore unico dello stesso Ermini nomina ad amministratore unico della società queste sono le notizie che possiamo darvi fino a questo momento domani ovviamente sapremo di più e saremo anche più precisi su quanto sta accadendo in questi giorni convulsi che ovviamente matureranno in quel del 18 maggio quando a Perugia si discuterà al Tribunale di Perugia si discuterà dell'istanza di fallimento rinviata lo scorso martedì per la presentazione di alcune desistenze da parte di soggetti che avevano comunque delle questioni aperte con Leonardo Covarelli queste le ultime notizie domani qualcosa di più